I-TEC Sul nostro sito c'è un traffico straordinario, molti hanno deciso di condividere le loro collezioni. Prima di venire qui, per esempio, ho letto un annuncio su Twitter che invitava a fare colazione in ufficio e a visitare via internet il Museo d'Arte Moderna di New York. È bello! Ufficialmente lanciato al Museo Londinese Tate Britain, questo nuovo sito web invita a fare un'incursione virtuale in 385 sale di 17 musei del mondo, i più importanti come gli Uffizi di Firenze o il Tate. Così come si può perlustrare la geografia terrestre con Google Maps, ecco una nuova dimensione da visitare stando seduti davanti al proprio computer. Obiettivo è accrescere il pubblico di Google e dilatare le possibilità della fruizione virtuale. La navigazione è facile, intuitiva, aperta ad un pubblico planetario. Ognuno dei 17 musei che hanno aperto le porte all'occhio sempre più indiscreto di internet hanno scelto una loro immagine emblematica, che è stata ripresa in alta definizione. Questo nuovo strumento è una risorsa per gli studiosi, gli studenti e gli appassionati d'arte del mondo intero. Ognuno dei 17 musei che hanno aperto le porte all'occhio, gli studenti e gli appassionati d'arte del mondo intero.